buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale youtube oggi oggi è sabato sabato 3 agosto 2024 siamo in piena estate stasera vi ricordo alle 21 e 30 live mi raccomando non mancate sabato scorso eravate in tantissimi sono stato molto contento live è riuscita molto bene e quest'oggi siamo qua per rifare qualche partitina per provare a migliorare un po la nostra classifica e in modo che stasera possiamo poi continuare nei migliori dei modi allora diamoci subito dentro intanto che prendiamo i premi un salutone a tutti i nostri amici youtube trovate tutto il loro indirizzo ovviamente nella mia sezione canale i loro indirizzi youtube li salutiamo sono alessandro gamer le burne o the last days nico sicolo alle bene 36 che portano questo stesso gioco questa stessa questo stesso contenuto anche loro portano ai fondamenti sul loro canale in live e anche in versione registrata non siamo anche lupo del tubo e squalo calcio che portano altri contenuti ma senz'altro in gamba anche loro meritevoli di essere visti ragazzi andiamo a batterci subito il rigorino a un saluto particolare anche al nostro amico dispensatore di consigli tor 937 una persona sicuramente che ha avuto successo nella vita e che ci sta aiutando con i suoi consigli per migliorare anche la nostra grazie mille tor buona giornata anche te buon sabato e buon weekend allora dicevamo andiamo subito a prenderci il rigorino fare il rigorino vediamo un po come la va tanto questa è una cosa che viene fatta giornalmente ma non è che incide poi tantissimo nel gioco tiriamo lo basso qua vediamo cosa fa portiere si muove se si spostano tiriamo il centro l'ultimo nato male ce l'ha parlato ragazzi ma non è un problema allora pieno molto caldissimo quest'oggi molto caldo oggi alle 12 abbiamo portato anche un terzo episodio di ufl il gioco che uscirà di calcio molto simile a e football molto simile a fifa diciamo che è una via di mezzo sempre abbastanza giocabile ci sono delle cose diverse ovviamente da fifa e da e da e football sembra comunque meritevole l'abbiamo provato già in giugno la settimana degli weekend 7 8 giugno e adesso è ancora aperto per tutti quindi ragazzi se volete scaricare questo ufl 2024 ps 5 sicuramente ps4 non saprei xbox lo scaricate sono 15 giga e si può giocare fino a domani notte domani sera insomma quindi il weekend è aperto per tutti per giocarti a questo punto ragazzi che facciamo prendiamoci abbiamo fatto delle partite in questi giorni quindi sicuramente qualche missioncina ad andare a prenderci qualcosa vediamo riprendereci il tutto e poi andiamo subito a giocarci una partita allora vediamo qua prendiamo qualcosa ah sì abbiamo accendi al gioco sì e le varie monetine di e football che te le danno 670 hanno detto nell'arco di un top di giorni prendiamoci queste 30 e a questo punto andiamo anche a prendere tutti i premi che abbiamo qua messi da parte 21 li prendiamo tutti sono cose così lasciate a caso abbiamo anche delle notizie gioco bonus modifiche programmi a e roba del giorno 1 quindi di giovedì ragazzi perché io ovviamente non vi porto un video con gli aggiornamenti per questo è sufficiente vedere i video di alessandro gamer il video di the last days non so se ne portate anche nico sicolo le burne insomma tutti i ragazzi che portano anche loro e poi sicuramente apportano anche gli aggiornamenti io non lo faccio io faccio la partitella ogni tanto è finita lì quindi date vedere il loro video se volete le novità del giovedì e andiamo a prendersi tutti i premiums eccoli qua tutti quelli regalati in questi ultimi giorni prendiamo il todos e andiamo subito dentro il nostro campionato ragazzi andiamo nel campionato quest'oggi abbiamo qualcosa da prendere contratto andiamo a vedere qualcosa del giovedì che ci hanno regalato al giovedì oppure qualcosa che abbiamo preso guadagnando le partite vediamo 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 cosa ci può essere in regalo e abbiamo due giocatori acqua due giocatori gratis un pool da tre ragazzi non è che sia molto difficile a prendere un pool da tre sono giocatori normali non sono numeri 7 e sono i numeri si famosi i numeri 7 si erano giovedì probabilmente sono deburin ronaldo e son tutti ovviamente max abili tutti i livellabili va bene facciamoci due giri ne prendiamo due li mettiamo in saccoccia tanto non fanno male sono gratis ragazzi non costa nulla vediamo che ci arriva tanto uno l'altro lo mettiamo in tribuna perché per il momento non ci servono anche se magari livellando diventano molto molto forti vediamo il primo che arriva sicuramente un numero 7 eccolo qua cristiano ronaldo va bene portogallo cristiano ronaldo è sempre lui è anche diciamo il simbolo ufficiale di ufl l'icona di ufl lo sponsor sembra addirittura che abbia sborsato lui dei soldi per quel gioco non so che sia vero se siano di serie se siano voci infondate non ve la dico come l'ho letta magari sono solo stronzate va bene questo era un auto 84 25 livelli di crescita va bene passiamoci l'altro giretto gratuito vediamo chi becchiamo dei due il terzo lo beccheremo probabilmente domani ma non è un problema tanto lo mettiamo lì facciamo facciamo casta nel senso che magari con qualche sponsor ci aiuterà a fare casta vediamo chi è questo debruine ok perfetto belga nazionale belga per lui gioca con rumelone luca con va bene 86 il livellabile anche lui quindi probabilmente arriverà sui 95 97 non so quanto arriverà comunque ragazzi 20 c'è l'evelli di crescita tutto buono in attacco al centrocampo ovviamente non ha difesa non è un giocatore difensivo va bene andiamo avanti adesso finalmente entriamo dove la dove c'è il campionato dove c'è la divisione dove siamo siamo in divisione 5 ragazzi andiamo subito a vedere abbiamo anche qualche news qualche novità che oggi vi dirò subito oggi seguiamo l'esempio l'aiuto di un amico un amico che ci ha scritto in questi giorni allora vediamo siamo a sette punti attuali mancano tre partite una vittoria per restare due vittorie per andare in divisione 4 ragazzi bisogna provarci qua bisogna provarci a tutti i costi cerchiamo di vincere subito una oggi stasera vediamo un po come la va come la va schiava di gioco ragazzi la formazione abbiamo seguito i consigli di un nostro amico marcos mi ha scritto qualche giorno fa in un commento mi ha detto ti do dei consigli secondo me dice il suo parere giustamente di mettere reichard in difesa e l'abbiamo messo qua a fianco di maldini l'abbiamo fatto sono entrambi messi qua ho spostato turan a destra come mi ha consigliato e ho messo il difensivo scusate nesta non maldino non so perché ho messo nesta perché probabilmente l'ultima partita me lo hanno buttato fuori me l'hanno squalificato andiamo riprendere nesta eh ce l'hanno squalificato ah no è ancora squalificato porca miseria non possiamo giocare con nesta lui mi ha consigliato di mettere nesta però è squalificato non possiamo usarlo va bene mi ha consigliato di mettere nesta al fianco di reichard e metterlo difensivo ho messo maldini perché nesta purtroppo ve l'hanno espulso sapete come va le partite l'altro mi fa 3000 falli neanche lo muniscono il mio fa uno sgambetto e viene espulso subito e con armi che fa queste cose ragazzi noi lo lasciamo fare poi mi dice via la non puoi toglierlo metterlo davanti alla difesa lui ci vuole assolutamente e poi mi consiglia sempre il nostro amico marcos di piazzare il platini come seconda punta perché gioca molto meglio piuttosto che trequartista e l'ho messo seconda punta ultimamente ha fatto un bellissimo grosso punizione l'ultima partita non so se l'avete vista quella di ieri a parte quello e mi dice dopo di che dovresti mettere un regista creativo e un tra le linee al centrocampo abbiamo scelto ragazzi chimice tra le linee e registra creativo ho messo l'onaldinio però in panchina abbiamo delle sostituzioni che possiamo fare abbiamo anche beccam che tra le linee quindi si può mettere al posto di chimice e abbiamo maggio il registra creativo che si può mettere al posto di ronaldinio se serve poi abbiamo comunque altri giocatori che sono all'altezza fortissimi totti nedved messi grisma rumenighe mbappé ragazzi tutti giocatori che giocano bene e ho messo in squadra beckenbauer ovviamente avendo nesta uscito messo beckenbauer che è uno sviluppo e lo lasciamo lì quindi abbiamo fatto quello che ci ha consigliato marcos turam a destra ricard lui ci ha detto nesta purtroppo squalificato ho messo maldini davanti alla difesa mettendolo anche difensivo viera non si sposta si lascia lì perché è forte così com'è e con lui passano in pochi un tra le linee chimice e un registra creativo l'onaldinio poi ho messo per finire dietro le punte che mi rende bene martinez e holland davanti ma alland ho la chiamato come volete non si può sostituire benissimo con mbappé con lumenighe con messi con chrisman tutti quanti postotti possono anche giocare come secondo punto e come trequartisti come i primi punti quindi c'è una varietà enorme da poter sostenere in questa squadra ragazzi contrattacco 4 2 1 3 desciampe l'allenatore che facciamo facciamo una partita dobbiamo vincere assolutamente dobbiamo cercare di vincere ragazzi matchmaking della konami non voglio sparare le calzate non voglio portare sfiga ma ultimamente sembra che la connessione si sia di presa ho controllato il router ho sistemato un po tutto sembra tenere botta la connessione quindi siamo con la nostra linea procedi 4 tacche siamo con la nostra linea quindi non siamo con simo per cose del genere allora piero 1818 è anzianotto il ragazzo se viene da quell'anno diciamo che ha la sua bell'età allora anche lui è alla maglia dell'inter quindi siamo inter contro inter giochiamo ho visto noi fuori noi in casa lui gioca fuori quindi manteniamo la maglia questa e adesso la maglia bianca per lui oppure vediamo un poche mai le possiamo dargli e la diamo gialla così ragazzi si vede bene maglia del brasile per il nostro amico e andiamo avanti e vediamo le formazioni come sono le formazioni allora eccoci qua pronti a giocare ragazzi alla vabbè di ronaldino in forma pratini e chimici vi era benissimo maldini e lecca sono in forma controlliamo se maldini l'abbiamo messo come ci ha chiesto come ci ha consigliato marcos che riguarda e saluto e aspetto questa sera in live se vuole unirsi a noi 21 e 30 la sera ragazzi se volete fare anche qualche partita e amichevole la facciamo ho già mi sembra qualcuno che mi ha scritto non mi ricordo più di noi ma li ho segnati quindi se volete fare qualche amichevole a commento da sera un commento qui sotto ovviamente non è obbligatorio la riscrizione non è obbligatorio il like commento qui sotto se volete iscrivetevi e mettete un like tutto fa piacere aiuti il canale crescere utili video essere visualizzato però basta un commento qui sotto dire tra sera vorrei fare una live il nome lo vedo e così se ci facciamo una partita insieme in live un amichevole non un amichevole comunque dicevo che questa è la nostra formazione individuale vediamo subito se va bene il difensivo Maldini perfetto dovrebbe essere nesta ma purtroppo non ce l'abbiamo poi ho messo il contropiede Lautaro che è veloce potrei anche mettere Viera difensivo volendo vediamo se qua è Viera difensivo linea bassa il Viera di suo è già difensivo però possiamo anche metterlo oltre in modo più difensivo possibile vai così e adesso ragazzi l'avversario diamo una cattina alla sua formazione Mbappé e Joao Felix e Neymar e chimici dietro le punte centrocampista non ha tre guardisti ha una seconda punta un'esa e una punta due centrocampisti non ha mediano tre centrocampisti non ha mediano due difensori centrali e due laterali porta cobel che è un portiere svizzero che ultimamente si sta dimostrando in questo gioco abbastanza abbastanza forte ragazzi direi a questo punto di andare a girare giriamo vediamo subito l'avversario è pronto che girare andiamo in campo ragazzi l'avversario già pronto se la gioca contro noi questa partita giochiamo ovviamente attacchiamo noi da sinistra a destra quindi vediamo subito com'è la partita attacchiamo attacchiamo subito a sinistra da sinistra a destra vediamo è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immune la competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne godiamoci 90 minuti punizione punizione subito sul platini l'hanno subito piedino folle sul platini ragazzi tac e vediamo vediamo la presa ma col piedino mongolo va bene ragazzi platini sapete che batte le posizioni sempre in maniera abbastanza sensazione è che proverà ad andare in porta da lì e la cosa può prendere in porta proviamo così ma è difficile infatti eh va bene ah peccato che l'ho occupata male con chimice non sembrano voler rallentare eh ah peccato e vai e ronaldinio la mette dentro subito grande ronaldinio passaggio filtrante di platini che gliela mette sul piedino e non ha potuto sbagliare ovviamente ronaldinio davanti la porta grande ronaldinio vediamo non ce la farei vedere 1 a 0 ragazzi dopo pochissimo e abbiamo cominciato bene cerchiamo di mantenere questo sembravano parte di un meccanismo perfetto prima acuto della gara già nei minuti iniziali madonna sbaglia il passaggio malcalibrato va a sinistra sulla fascia peccato vediamo così subito ah peccato l'ho vedato io eh questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta compromisura e vai 2 a 0 platini michel non sbaglia ragazzi michel non sbaglia 2 a 0 ragazzi grande inizio del grande inizio di partita grande inizio di partita e si avvicina alla salvezza ragazzi questo è l'importante l'avvicinazione della salvezza è la cosa indispensabile l'avversario mette in pausa forse va a qualche modifica no mi sa che se ne scappa via ragazzi mi sa che l'avversario se ne scappa via ma noi siamo saldi ragazzi tre punti obiettivo completato hai vinto l'avversario è scappato via un infamone bestiale non si fa così si gioca qui nella fine ragazzi a questo punto ragazzi ne facciamo un'altra perché il tempo non è tiranno il tempo è dalla nostra parte comunque ragazzi 10 punti siamo salvi due partite per riuscire per provare andare avanti a questo punto ragazzi abbiamo Nesta abbiamo Nesta da andarci a prendere quindi andiamo subito nella nostra panchinassa ecco qua Nesta lo prendiamo subito lo mettiamo ovviamente al posto di chi abbiamo messo cioè di di Beckenbauer e poi Nesta lo mettiamo in campo anche se leggermente inferiore a Maldini però Nesta ragazzi è un gran difensore un gran tostissimo quindi andiamo subito a metterlo difensivo ok abbiamo quindi Nesta difensivo non l'avevo messo anche difensivo via ah si l'ho messo dopo difensivo via quindi mettiamoci anche difensivo via va bene e la formazione adesso con Nesta esattamente come ci è consigliato Marcos e vediamo di fare un'altra partita ragazzi perché il tempo come dicevo non è tiranno anzi dalla nostra parte quindi bella vittoria 2-0 ci ha messo in 3 perché ovviamente l'avversario ha quittato ci poteva andare avanti magari poteva sicuramente fare qualcosa e magari ci siamo divertiti anche un po' di più ma quando io mi diverto quando sto vincendo l'avversario ragazzi quitta sempre ormai è andato di fatto non riesco a arrivare a più di due gol quando gioco bene quando merito diciamo quando l'avversario è scarso dite quello che volete non riesco a fare più di due gol perché l'avversario è quitta vabbè dato di fatto ragazzi i match-macky facciamoci un giretto vediamo subito chi ci mette di fronte Konami speriamo un altro avversario tipo questo così la diciamo facile diciamolo così ragazzi dai sto scherzando in descrizione trovate sempre il link alla playlist se avete perso un episodio qualsiasi cosa date a trovare vedere la lista c'è tutto quanto e se volete ve lo rivedete ovviamente mi ricordo ancora stasera 21.30 una live live ok procediamo ragazzi l'avversario l'abbiamo trovato vediamo di chi si tratta è Juventus Fezenin J32 non so se si è italiano penso che sia straniero comunque è maglia Juventus giochiamo al football stadium andiamo avanti la maglia la siamo bianca perché la Juventus è una maglia bianca noi abbiamo la maglia interista la nostra maglia non so neanche se si può cambiare questa maglia non mi ricordo se possiamo mettere l'altra maglia dell'Inter che è questa internazionalmente mettiamo la maglia la vecchia maglia dell'Inter questa la vecchia maglia dell'Inter quella che si usava tanti tanti anni fa è simpatica è bello mettiamo questa ragazzi e andiamo a vedere la formazione allora l'outalo va bene l'olan glielo lasciamo patinino in forma gli altri vanno bene gran difesa ragazzi Costa Curta Nesta e Reikkar tutti freccia azzurra e direi che è una buonissima cosa chi c'è in panca Maldini freccia azzurra ovviamente tutti freccia verde gli altri Rummenig freccia azzurra molto bene Messi verde però io direi di mantenere la formazione che ha giocato anche se Baggio effettivamente ha qualcosina in più però ragazzi il Ronaldinho ha fatto gol si merita di giocare anche questa partita se la merita Ronaldinho questa partita di giocarla perché ha fatto anche un bellissimo gol su assist di Michel Platini allora andiamo a vedere l'avversario come se la gioca Griezmann e Martinez davanti Martinez ha il nostro però perché è così basso Martinez con Deschamps perché l'ha messo non lo so non l'ha sfruttato bene Ronaldo 98 De Bruyne ha i giocatori gli ultimi giocatori quelli presi nell'ultimo nell'ultimo spacchettamento negli ultimi giocatori gratuiti De Bruyne e Ronaldo Tuomeni Kimmich Sacca difesa molto larga difesa molto larga ragazzi samba in porta non so che informazione sia questa ragazzi andiamo a giocarcela non ho visto se attacchiamo a noi o attacca lui credo che attacca lui da sinistra a destra e quindi occhio al pick-up iniziale che tanti ancora stanno facendo io mi sono accorto che tanti fanno ancora il pick-up iniziale e bisogna stare a tenere si attacca lui De Champrenatore per entrambi ragazzi diamoci dentro mettiamoci subito qualche tacca in difesa e vediamo subito eh ma cazzo ragazzi questo siamo in uno degli stadi più caldi del mondo e il pubblico stasera ce lo sta dimostrando l'atmosfera ragazzi ve lo devo dire è davvero elettrizzante si è cominciato subito primi tocchi di gioco e hanno un bisogno sperato di un risultato positivo oggi ci prova con un pallone profondo e poteva essere un'azione importante ah guagliata è una buona occasione per trovare spazio ecco Ronaldinho Lautaro Martinez a campo libero ci crede cerca la porta porca troia Lautaro grande tiro di Lautaro primo tiro con la maglia nuova ragazzi primo tiro con la maglia nuova dell'Inter Lautaro ha provato subito a buttarla dentro ma l'avversario ovviamente vediamo subito qua di andare a prenderla punizione subito Lautaro Martinez Kimmich pallone interessante in verticale ma donna fuori gioco grande Pratini si è lanciato dentro Pratini vediamo di prenderla subito vai vai così che giocata in dribbling e se ne va in scioltezza ecco il giro ah peccato va bene va bene così va bene così ragazzi manteniamoci in attacco cerchiamo di giocare sempre così l'avversario non deve oltrepassare la linea dai porta vediamo così c'è ben poco da fare se l'avversario salta più in alto di te fai così vediamo c'è Oland disponibile ah Oland ha presa ma però non l'ha presa come doveva prenderla l'ha presa ma eh vabbè vai così bravo ah va bene eh vai forza bravo madonna non riesco a prenderla bravo bravissimo portiere la bella presa merda manca proprio qualità nel palleggio il mister non sarà per niente con Astolo vai così bravo ronaldino l'autavo martinez ecco platini si sbarazza dell'avversario ola splendida reazione e vai e Ronaldinho è ancora lui Ronaldinho ragazzi sta giocando quindi sono ultime partite siamo sul 1-0 grande Ronaldinho grande grande merda merda ragazzi va bene e sbaglia completamente il suggerimento e trova il compagno opportunità di ripartire trova un modo per passare velocità di reazione e manovra offensiva sventata ah peccato bravissimo bravo bravo vai vai che è tua ah peccato no ho sbagliato io ragazzi ho sbagliato io modi di raggiungere il pallone eh ragazzi se faccio sia loro in qua occasione oh miseria ma dai va che fatto ma 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 chi sei lo Michael povero portiere qui era riuscito a opporsi alla prima conclusione ma non poteva fare nulla sulla ribattuta ottimo senso del gol qui ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla Loutano Martinez madonna Loutano di testa me l'ha preso bravo bravo non ha sbagliato nulla ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha neutralizzato quella palla Plotini ben fatto è intervenuto quando c'era bisogno di lui adesso possono ripartire in contropiede palla buttata via peccato l'uomo indica due minuti di recupero ah cazzo è arrivato al portiere è arrivato sul portiere vediamo e ragazzi tiri ragazzi però alla fine bisogna fare gol non basta tirare in porta bisogna anche fare gol ragazzi è solo la palla nostra cerchiamo di attaccare e giocare in contropiede e giocare un pochino meglio vediamo bravo bravo e anche noi e anche noi e anche noi ma donna è sbagliata eh che altro è questa va bene così va bene così va bene così ok bravo Lautaro Martinez va a raccogliere il passaggio holland Ronaldinho interviene di esperienza morga di sera è vera grande Piera grande Piera voleva metterla in argolino non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta ha messo in difensiva il nostro amico in difesa il calcio d'angolo lo mette sempre in difensiva il ragazzo vediamo e va in Kimmins ragazzi grande grande Kimmins c'è la messa all'angolino nel set impossibile andare a prendere balletto tipico vai vai basta 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 rispettiamo l'avversario grande gol di Kimmins la messa nell'angolino dove la portiera non poteva diventiamo utenti adesso eh siamo utenti sono in vantaggio sono in vantaggio di un gol apertura sulla sinistra a lunga prova aiuto allargando verso la fascia vai bravo 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 merda merda cazzo gliel'ho passato in fuorigioco dai su 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 ragazzi che stanno andando bene su 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 con calma che è mia con calma che è mia grazie grande ragazzo grazie ragazzino grazie salutiamo Kunde che ci ha dato una mano molto 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 buona bravo eh niente carterino no non insergo a me l'avrebbe espuso subito ragazzi sapete come funziona il gioco ah cazzo ragazzi questa è l'espulsione ma va fanculo che cazzo no no il player fatturo il giocatore non so che cazzo era ma non si può fare un fallo di questa maniera eh tiriamo dall'altra parte dal fondo perché abbiamo oland che di testa ragazzi non è il ball cazzo ma chi era Matteo no chi sta a tirare chi cazzo ha tirato in porta porca miseria il nostro avversario mette un attimo no sta facendo un po' di schidi bizi non so cosa vuole fare son yun min samba non perdono tempo a recuperare il pallone cerca passaggio ma non trova la precisione è esattamente questo la propria ma dono l'ho sbagliato se vogliono provare a riaprire la partita ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto sono d'accordo e ora un duomo c'è lui holland porca miseria holland fira meglio cazzo holland tutta una sta merda sta di holland ma poi guarda che lo guarda che lo porca miseria vediamo c'è qualcuno da cambiare magari qualcuno è stanco e il platini ragazzi direi che è stanco e chi ci mettiamo al posto il platini ci possiamo mettere anche lumenig ragazzi no lumenig lumenig lo mettiamo qua perché è stanchissimo e al posto il platini ragazzi ci mettiamo messi ragazzi e che cazzo ma abbiamo messi dai certo che di testa messi non potrà mai fare gol quindi cerchiamo di fare un angolo un pochino più schematica perché di testa a lumenig e messi non può farci gol quindi vediamo di fare una qualcosa di vediamo se viene qualcuno qua non si è potuto liberare si ricomincia dal portiere eh poteva finire in modo davvero diverso l'hanno scampata bella eh sì intervento che ha del miracoloso erano molto vulnerabili in questo frangente rumenig ha letto bene la zona ah madonna preferisce il retro passaggio via bravo sono stati forse un po' superficiali in questo frangente vai vai no fuori gioco dai fuori gioco dai cazzo merda stala niente da fare non impensierisce la difesa è certo bravo la mette in avanti passaggio l'uomo c'è un'indivisione 4 forse 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 grande grande l'uomo 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 ha penetrato grande l'uomo che va a battezzare l'agola e non lascia scappo al portiere guarda Fabio come si cazzo Ronaldinho è stanchissimo andiamo a sostituire Ronaldinho con Baggio Baggio è un altro giocatore che come lui regista creativo e va benissimo lasciamo tutti il resto Lautaro è in forma ragazzi Lautaro è strepitoso in forma lo lasciamo lì sono tutti in forma manteniamo la squadra chi batte da qua Kimic no non può prego vediamo l'arbitro dice di aspettare prima di riprendere gioco il mister vuole cambiare qualcosa aveva dato tutto l'allenatore ha fatto bene ha calciato non si passa ha provato grande grande punizione grande punizione schema perfetto ragazzi schema giusto Baggio ha tirato nell'angolino schema giusto e diciamo che va bene così vediamo adesso se riusciamo a fare qualcosa qua attiriamoli verso di noi noi ovviamente non vengono e poi facciamo così facciamo lungo e vediamo se qualcuno di terza di esse non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione punizione Roberto Baggio da cazzo grande Baggio butami la la non fatevi passare grande Baggio Baggio ci prova ragazzi Baggio ci prova c'è becca il tiro giusto ragazzi Baggio la mette dentro c'è becca il tiro giusto Baggio la mette dove deve mettere vediamo questa ah la prese del portiere bravo 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 bravissimo bravo bravo che gol che ha fatto maggio ragazzi cazzo che non si ha fatto maggio è finita è finita tutti gli applausi bravissimo lui è bravo l'allenatore che l'ha messo in campo va bene prega ma fai gol divertiti diversi si esulta che sei forte cazzo ragazzi 4 2 ma chi se ne frega cazzo ragazzi cazzo è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro è il momento che abbiamo fatto ragazzi lo so esulta come un bambino di due anni ma non me ne frega niente non mi interessa se esulta come un bambino di due anni l'importante è averla vinta l'abbiamo meritata siamo saliti in divisione 4 e questa sera in live ragazzi ci faranno un culo per sì perché in 4 perché no non è possibile ragazzi stasera ci faranno un culo tanto perché 14 tiri in porta ragazzi totale di 16 tiri l'avversario ne ha fatti 4 9 parate 4 a 2 ragazzi partita per me questa è storica non ho tanto diciamo che con modulo con l'aiuto di marcos mi sto trovando bene la squadra risponde bene non so se è un caso due partite vinte non so se è fortuna non so se è il modulo giusto non so se sono gli aiuti i giocatori messi al posto giusto come mi ha consigliato marcos che lo ringrazio ancora una volta perché può darsi che sia anche a merito suo quello che è successo oggi in queste due partite 2 a 0 la prima acquittato 4 a 1 4 a 2 diciamo che ha fatto la seconda ragazzi è andata così è migliore in campo ronaldinio ragazzi ha fatto gol nella prima partita ha fatto gol nella seconda partita ronaldinio ha giocato benissimo ronaldinio ha fatto il suo patinino ragazzi bravissimo per il patinino ragazzi a questo punto io vi ringrazio se volete mettici un like mi fa piacere per il video per me per il canale e se sottoreggiano ha aggiunto la promozione ragazzi più di essere contento di così era un po' che non riuscivo arrivare in quarta era un po' che non riuscivo andare avanti questa sera ragazzi cominceremo dalla divisione 4 sarà molto molto difficile ma tanto però cercheremo di farcela tufamix vi ringrazio ancora una volta vi saluta vi da appuntamento alle 21.30 live e poi la settimana prossima da domani in poi tutti i giorni l'appuntamento solito grazie ancora per avermi seguito ragazzi buon sabato buona domenica ma comunque a questa sera ciao